Sta per arrivare il giorno dedicato agli innamorati, stiamo parlando di San Valentino, una festa che purtroppo si è svuotata del suo valore simbolico diventando sempre più commerciale. Mesi prima infatti che arrivi il giorno fatidico veniamo letteralmente bombardati da tutta una serie di regali, viaggi, ristoranti e chi più ne ha più ne metta, che ci fanno sentire inadeguati soprattutto se nelle tasche non abbiamo nemmeno un centesimo. Ma la verità è ben diversa. Quando ci si ama davvero non è necessario comprare diamanti, prenotare viaggi mozzafiato o cenare in ristoranti extra lusso. Quando ci si ama davvero basta donare un piccolo fiore e guardarsi negli occhi, magari sotto un cielo stellato che è lì sopra di noi da miliardi di anni ed è la cornice più romantica che esista al mondo. In questo senso noi nisseni siamo fortunati perché a pochi chilometri dal capoluogo e precisamente a Montedoro esiste l'osservatorio astronomico che proprio per il giorno di San Valentino propone due momenti dedicati agli innamorati. Il primo appuntamento è alle 18 e prevede una passeggiata astronomica al planetario. Il secondo momento è alle 19 e prevede l'osservazione al telescopio della Luna e delle stelle principali.